Le due migliori prestazioni in campo del Modena finora sono state quelle contro Parma e Reggiana e se vogliamo pure il secondo tempo di Teramo, ma è stato soprattutto nei due derby che i gialli hanno dato il meglio di loro portando a casa peraltro solo la miseria di un punto. Forse soltanto un caso, o magari la sottile e involontaria predisposizione della squadra di Pavan a dare il massimo sotto pressione, con le motivazioni a mille, come può proprio dare una sfida con una squadra di vertice. Se così fosse, anche se il mister negherà, ci sarebbe un po' da preoccuparsi in mista della gara di sabato pomeriggio allo stadio del Conero di Ancona. La squadra è blasonata, un'altra nobile decaduta, ma la classifica Langue ultimo posto in classifica con due punti al pari di Fano e Teramo e la situazione societaria è ancora peggiore con aria di Maretta, il presidente Miani accuse il patron Ragnieri di promesse a vuoto, stipendi non pagati dimissioni a catena nei quadri dirigenziali e rischio penalizzazione. Le cose non vanno meglio neppure in campo l'undici Anconitano, allenato dall'ex portiere Fabio Brini, passato anche dalla panchina del Carpi e stato l'artefice della promozione in B, è reduce da una rocambolesca sconfitta in casa contro il Venezia nonostante l'espulsione raffica subita dai Lagunari e mancherà l'attaccante Matteo Momente, elemento di spicco della prima linea d'orica, squalificato. Nel Modena gli unici veri ballottaggi sono nel tridente d'attacco, Schiavi e Basso torneranno titolari sugli esterni, con probabile conferma di Ravasi come centravanti, ma non sono escluse sorprese nelle ultime sedute d'allenamento. Ancona e Modena non si affrontano dalla Serie B della stagione 2009-2010, 2-0 per i marchigiani ad Ancona, 2-1 per i gialli al Braglia, gol di Bruno e Pinardi. L'ultima vittoria del Modena ad Ancona risale al 2001, un sonnante 3-0 per i canarini di De Biasi, doppietta di Fabbrini e rete di Zironelli. E sulla panchina dell'Ancona, anche allora, c'era Brini.